Buonasera, grazie. Allora, che fortuna, io sono stato due volte spettatore, ora sono da questa parte a raccontarvi questa storia e la sensazione, la prima parola che mi è venuta quella di dire, la prima frase, che fortuna, guardate che cosa c'è alle nostre spalle, basterebbe quasi quello, scendere, guardare quello che abbiamo davanti, dietro, però c'è anche una storia da raccontare e mentre venivo ad assistere agli spettacoli che mi hanno preceduto e mentre mi preparavo a questo e mi dicevo che fortuna, mi veniva sempre in mente una frase di un grande personaggio, Enzo Ferrari, il mitico Drake, che ha la domanda, ma la fortuna, qual è il suo rapporto? lui rispondeva la fortuna non esiste, la fortuna siamo noi e allora se siamo noi la fortuna forse siamo noi anche la sfortuna. Mi è venuta in mente, faccio questa introduzione, perché quando ho iniziato a lavorare a questa storia ero, come spesso mi succede quando inizio un libro, di fronte ad un titolo, una deformazione professionale, io di mestiere faccio il giornalista, e quindi cerco sempre il titolo per cercare di attirare l'attenzione dei miei lettori e poi sviluppo la storia. E lo stesso ho fatto avvicinandomi appunto a questo racconto che riguarda storie, diciamo sfortunate, chiamiamole ancora così per il momento, di navi e di donne e avevo scelto un titolo che si chiamava la maledizione delle due principesse, perché sembra, lo vedrete, quasi una maledizione che si abbatta su queste navi e su queste principesse. Poi man mano che mi sono avvicinato alla storia ho capito che non c'è maledizione, c'è qualcosa di diverso, ci sono degli errori umani e ci sono delle scelte scelerate dell'uomo che possono portare a conseguenze tragiche. Per questo il racconto è diventato storie di navi e principesse che non fecero ritorno. Il barco llevava il nome di una princesa, la hija del re d'Italia. Chiedete in Argentina e saranno in molti a raccontarvi la storia tragica del principessa Mafalda, molti più che in Italia. È il 25 ottobre del 1927, il piroscapo sta compiendo la sua centesima e ultima traversata, da Genova a Buenos Aires. Quello che è stato l'orgoglio della marineria, l'ammiraglia della flotta italiana, sta per naufragare a largo delle coste del Brasile. Ma facciamo un passo indietro, anzi due. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. 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 in quelle operazioni. E allora è meglio chiudere il più rapidamente possibile questa pagina in fausta e concentrarsi sulla costruzione della nave gemella, il Principessa Mafalda. Un anno e un mese dopo la nave è lì. Stessa scena, stessi cantieri, stessa nave, nave gemella, ma tanta tensione in più, tanta tensione in più. Sbagliare sarebbe la fine per la compagnia, per il cantiere. Per fortuna, o meglio lasciando perdere la fortuna, facendo tesoro degli errori del passato, questa volta va tutto liscio. Lo scafo galleggia, si può completare l'allestimento e in poco più di cinque mesi il Principessa Mafalda è pronto. È il 30 marzo del 1909 quando è il momento del viaggio inaugurale da Genova a Buenos Aires, il primo. È divertente leggere il manifesto che pubblicizza la partenza, è quello dell'OID italiano, Società di Navigazione. Parla del Principessa Mafalda come del più celebre e suntuoso fra l'Europa e il Sud America. Barra sul tonnellaggio, 12.000 tonnellate, invece sono poco più di 9.000, ma effettivamente parla di questa nave come un qualcosa di davvero unico dal punto di vista delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche, del lusso a bordo. Le dimensioni le abbiamo già viste e sono uniche per l'epoca, ma le caratteristiche tecniche sono davvero incredibili. A bordo c'è una potente radio ricettrasmittente che Guglielmo Marconi utilizzerà più volte per i suoi esperimenti. C'è un telegrafo, le cabine lusso e di prima classe hanno il telefono. Sempre per le prime classi c'è un grande spazio, una grande hall di ricevimento, un salone delle feste, una sala per la musica, la palestra, la sala riservata alle signore, la sala per i ragazzi, un grande ristorante, tutto su due ponti, come le moderne navi di oggi. Chiaramente in breve tempo alta borghesia, nobiltà, attori, sportivi, personaggi celebri, quando si spostano fra l'Italia, l'Europa e il Sud America vogliono il principessa Mafalda. Da Arturo Toscanini a Luigi Pirandello, da Tatiana Pavlova al Genoa, la squadra del Genoa che sceglierà il principessa Mafalda per la sua tournée del 1923 in America Latina. fino a lui, Carlos Gardel, la voce dell'Argentina, l'uomo che grazie alla radio di Guglielmo Marconi diventerà famoso in tutto il mondo con i suoi tanghi. Marconi diventerà famoso in tutto il mondo con i suoi tanghi. Marconi diventerà famoso in tutto il mondo con i suoi tanghi. Marconi diventerà famoso in tutto il mondo con i suoi tanghi. Marconi diventerà famoso in tutto il mondo con i suoi tanghi. Ora una cabeza, Carlos Galdè, straordinaria. Bene, tutto questo lusso sul Principessa Mafalda è riservato a solo 180 persone, perché per la terza classe, per il fiume di emigranti, ci sono 1200 posti, in grandi camerate, con i letti a castello, il refettorio in comune, i bagni in comune, nei ponti inferiori. Eppure, anche da questo punto di vista, un salto in avanti rispetto al passato, che fa dire alla compagnia che le condizioni sono più dignitose, che oggi anche gli emigranti possono viaggiare meglio rispetto al passato. Così, avanti e indietro, da Genova a Buenos Aires. La nave inizia a navigare nel 1909 e continua fino al 1914 sulla rotta per il Sud America. Farà un solo viaggio per New York nel 1914, per portare un carico di passeggeri americani in fuga dall'Europa che sta per incendiarsi. Durante la guerra verrà requisito dalla regia marina e diventerà un albergo galleggiante per gli ufficiali. Tornerà, dopo la guerra, nel 1918, sotto nuove insegne, perché il Lloyd italiano è stato assorbito dalla navigazione generale italiana, la più grande compagnia armatoriale di quel periodo. Che cosa succede però negli anni 20? Che rapidamente si afferma una nuova generazione di navi. Navi non solo più grandi, ma anche con una concezione diversa degli spazi a bordo. Navi che hanno una stazza doppia, tripla, del Principe Samafalda. Che hanno ambienti differenti, che sono più grandi, più confortevoli. La nave, che ha solo poco più di 10 anni di vita, non li ha nemmeno navigati tutti. È giovane, ma è già obsoleta. E questo segnerà il suo destino. Perché da quel momento la compagnia armatoriale decide di non investire più sul Principe Samafalda. Di non sottoporlo a quei lavori di manutenzione costanti che vanno fatti su una nave. Lavori di riparazione. Che invece sono soltanto piccoli interventi, piccoli ritocchi di macchiaggio. In breve tempo, attorno al Principe Samafalda, cominciano a circolare dei soprannomi sinistri. Il primo è ballerina, non per la musica che si suona a bordo, ma perché dalla sala motori salgono sui ponti inferiori rumori, vibrazioni continue. Il secondo è altrettanto spregiativo e riguarda l'equipaggio. Chi può, dal Principe Samafalda se ne va. Cerca l'imbarco su un'altra nave. Scappa. E allora il Principe Samafalda diventa la nave dei liquidati. La flotta della navigazione generale italiana decide, in un primo tempo, di irradiare la nave del 1925. Ma bisogna occupare quegli spazi in attesa delle nuove navi, altrimenti la concorrenza occupa gli spazi e porta via mercato, come si dice oggi, alla compagnia. E allora avanti, sempre con piccoli interventi, piccoli aggiustamenti alla nave. Così sarà per sempre, nonostante le richieste continue degli ufficiali che ben conoscono le condizioni della nave. Così fino all'ultima attraversata, quella dell'11 ottobre del 1927. L'orario di partenza dal porto di Genova per Buenos Aires è fissato alle ore 13. Tutti i passeggeri sono già a bordo. La nave non parte. Si aspetta un'ora, due ore. C'è solo un gran via vai in sala motori. I motori non si accendono. La compagnia medita addirittura di sospendere il viaggio, di annullarlo. C'è anche la scusa pronta. Pochi passeggeri in prima classe. Dei mille emigranti non interessa nessuno. Li possiamo schiacciare su un'altra nave. Poi i motori si mettono in movimento. La nave parte con cinque ore di ritardo. Sarà un'odissea trasica, un viaggio disastroso. Tra Mediterraneo e Atlantico la nave si fermerà dieci volte. Ma al momento della partenza i passeggeri non sono a conoscenza delle reali condizioni della nave. C'è quel misto di euforia, forse anche un po' di preoccupazione, che coglie un po' tutti noi quando siamo alla partenza di un viaggio, soprattutto per mare. Ben diverso è l'atteggiamento dell'equipaggio, che come dicevo prima conosce bene le condizioni. Cominciare dal suo comandante. Si chiama Simone Guli. È un siciliano a 60 anni. Ha 40 anni di esperienza alle spalle. È stato un eroe della Prima Guerra Mondiale. Perché ha guidato, ha comandato due piroscafi. Entrambi colpiti e affondati dai sommergibili tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. Ma lui è riuscito a salvare tutti quanti, fino all'ultimo passeggero, e poi è saltato dalla nave. A più riprese chiede alla compagnia armatoriale di intervenire sulla nave. Ha criticato anche gli ultimi interventi di macchiage fatti in bacino a Genova, sull'elica che avrebbe bisogno di operazioni robuste di riparazione. E ugualmente preoccupato è il direttore di macchina. È un genovese. Si chiama Silvio Scarabicchi. Silvio scrive ad un amico, pochi giorni prima della partenza, una lettera che ci fa capire molto di quello che sta per accadere. Scrive Silvio, caro amico, che dire? Personale nuovo, nuovi ufficiali, nuovi sotto ufficiali, nuova la bassa forza. Figurati quali molteplici preoccupazioni ho avuto e per di più con la macchina sinistra in avaria. E' tanto da cambiare mestiere. Questo lo scrive pochi giorni prima della partenza. Il comandante addirittura non riesce nemmeno a staccarsi dalla sua famiglia alla vigilia della partenza. Uli vive a Napoli, a San Giorgio Cremano. E nei giorni precedenti ha portato il principessa Mafalda da Genova a Napoli, portando anche la compagnia di Luigi Pirandello, che si è fatto ritrarre con il comandante prima di scendere dalla nave. Sarà la moglie a raccontare, nei giorni successivi alla tragedia, in un'intervista al mattino, lo stato d'animo del comandante, di suo marito. Aveva dei brutti presentimenti. Mi aveva confessato le sue preoccupazioni, dicendomi che la nave non era più nelle condizioni di affrontare lunghe traversate. Ne aveva parlato con i responsabili della compagnia, senza ottenere risposta. Doveva obbedire agli ordini, far partire un'ultima volta la nave prima del disarmo. Ecco, questo disarmo sempre annunciato e mai realizzato. È talmente preoccupato, Guli, che la moglie decide di accompagnarlo fino a Genova prima di lasciarlo e dargli appuntamento al suo ritorno. Vi parlavo di Scarabicchi e delle sue preoccupazioni. Scarabicchi conosce meglio di chiunque altro le condizioni della nave, perché lui, tutti i giorni, sul giornale di macchina, ha registrato le continue avarie della nave. Il giornale di macchina è consultabile presso l'archivio di Stato di Genova. Io l'ho letto, è un atto d'accusa devastante. Ogni giorno un problema, eppure la nave continuava a navigare. E l'equipaggio, gli ufficiali, accettavano l'ordine della compagnia. La nave si ferma dieci volte, vi dicevo, tra Mediterraneo e Atlantico. Nel porto di Barcellona, prima sosta, resta ventiquattro ore. Poi riparte, ma il motore di destra si ferma. Si supera Gibilterra, si ferma anche il motore di sinistra. Sei ore in balia dell'oceano. Si riesce a riparare il solo motore di sinistra, e inclinati su un fianco, si decide di fare sosta a Dakar, porto africano. Ma si guastano le celle frigorifere. La carne marcisce, viene comunque servita a bordo. Ci sono centinaia di intossicati. E allora si fa un'altra sosta, mentre l'esasperazione della gente monta. Si arriva a Sauvisente, che è un porto dell'arcipelago di Capoverde, dove si imbarca carne appena macellata per poterla servire a bordo, e dove sale anche un gruppo di passeggeri argentini, miracolosamente sopravvissuto ad un naufragio pochi giorni prima. Uno di loro si chiama Luigi Bulgarini. Interrogato dai passeggeri, racconta la sua disavventura, ma conclude con un sorriso dicendo «Tanto una cosa è così, una seconda volta non può succedere». La nave si stacca da Sauvisente il 18 ottobre del 1927. A bordo la tensione sta per esplodere. Inizia addirittura una raccolta di firme di protesta da consegnare al comandante. Quella petizione poi non arriva in fondo per non accendere ancora di più gli animi, ma serve al comandante Gouli per un ultimo disperato tentativo, un telegramma alla compagnia in cui chiede di inviare un'altra nave per il trasbordo dei passeggeri. La risposta è un imperativo, proseguire fino a destinazione e attendere disposizione. Gouli non sa più cosa fare. Cerca di tranquillizzare come può i passeggeri e sfruttando il passaggio dall'equatore organizza una grande festa a bordo, con tanto di torta gigante servita ai passeggeri e nel salone delle feste si suonano le hit del momento. e nel salone delle feste si suonano le hit del momento. Creola Creola Quel giorno di ottobre del 1927 è un giorno tiepido, di autunno. C'è solo una leggera brezza che increspa le acque dell'oceano. Tutto si svolge tranquillamente. Siamo vicini ormai alla costa sudamericana e questo un po' tranquillizza, c'è ancora preoccupazione per il viaggio incredibile che i passeggeri hanno vissuto, ma siamo a poche ore dalla prima tappa sudamericana. E allora in prima classe si conversa, si balla, si ascolta musica, black bottom, musiche di questo tipo. C'è spazio per un po' di musica anche in terza classe, con le chitarre, con le fisarmoniche. Insomma, tutto scorre tranquillamente. Anche qui accade tutto all'improvviso, alle 17. Si sente un boato tremendo, come fosse un'esplosione. La nave si ferma di colpo. Da un colpo di code poi si paralizza. Sulla nave silenzio, per un attimo. Poi la paura, il panico, le urla, le grida, le corse affannate per capire quello che sta succedendo. Fra i primi ad accorgersi di quello che è successo, c'è un giovane pasticciere di Verona che è appena uscito dal salone del barbiere di seconda classe ed è appoggiato alla balaustra della nave, a Poppa. Lui è molto preoccupato per quello che sta vedendo perché ha imbarcato i suoi macchinari per spostare la sua attività di pasticciere da Genova a Buenos Aires ma non li ha assicurati per risparmiare soldi. E adesso sta vedendo qualche cosa di incredibile. Lui si chiama Ruggero Bauli. Si salverà, tornerà in Italia qualche anno più tardi, darà vita a un impero dei dolci, sarà il re dei Pandori. Adesso è solo un giovane spaventato Ruggero Bauli perché ha visto che l'asse dell'elica di sinistra si è spezzato e con il suo movimento rotatorio ha squarciato la fiancata della nave. Sul ponte di comando Guli chiede ai suoi ufficiali che cosa sia accaduto. Lo informa il direttore di macchina Scarabicchi che fa subito azionare le pompe per far uscire l'acqua, per cercare di far uscire l'acqua dalla nave. La preoccupazione è tranquillizzare i passeggeri. Al suo comandante in seconda, Gianluca Moresco di Bogliasco, fa dire che non è successo nulla, che è tutto sotto controllo. Tra poco verrà servita la cena. Ma intanto chiama a raccolta l'equipaggio con la sirena e chiede ai marconisti di lanciare l'SOS. Siamo a 80 chilometri dalla costa brasiliana, da un punto che, ironia della sorte, si chiama Puerto Seguro. Da quel momento i marconisti, Reschi e Boldracchi, non smetteranno per un solo secondo di lanciare l'SOS. Anche quando la situazione sarà ormai palesemente compromessa, loro non cercheranno di salvarsi e continueranno fino alla fine a chiedere aiuto. Bisogna gestire la situazione. Ma la nave mostra tutta la sua totale inadeguatezza. Inoltre, dalla terza classe, dai ponti inferiori, il fiume di persone è salito a bordo, travolgendo ogni cosa. L'equipaggio non riesce a gestire la situazione o non vuole gestire la situazione. Guardate, questo è un caso che verrà addirittura studiato da un'università svedese di Uppsala, con una conclusione agghiacciante, alla regola aurea del prima le donne e i bambini, su quella nave prevarrà il si salvi chi può, dall'inizio. Il comandante Gouli ha il megafono da una parte e la pistola dall'altra. Cerca di governare come può l'evacuazione della nave. Dà ordine a tutti i passeggeri di indossare i giubbotti di salvataggio. Chiede di calare le lance in acqua. Ma le lance non sono mai state controllate. Quelle calate sulla fiancata di destra, essendo la nave inclinata a sinistra, vanno a finire contro lo scafo e si rovesciano. Per quelle di sinistra, le corde sono lacere, marce, e quindi cedono. E anche quando la scialuppa riesce ad arrivare in acqua, perde subito, prende subito acqua. Si imbarca perché il legno a marcia è consumato e i passeggeri sono costretti con i loro cappelli a togliere l'acqua, come se fossero dei secchi. Sul posto sono arrivate due navi, fra quelle che hanno raccolto l'SOS, l'Aliena e l'Empire Star. Si avvicinano, ma vedono dalla nave che c'è una colonna di fumo bianco che si alza. Temono che sia imminente l'esplosione delle caldaie. In realtà è solo vapore acqueo, perché sono state aperte le caldaie per far uscire il vapore. Ma in quel momento le comunicazioni radio sono interrotte e questo rallenterà ancora di più le operazioni. Intanto si è fatto buio e non è più la brezza del pomeriggio. Adesso sono onde alte che rendono più critica la situazione. È una notte di nobilunio, completamente buia. Non si vede nulla. I fari delle navi soccorritrici illuminano scene terribili, infernali. Le scialuppe sono stracariche. La gente comincia a buttarsi dalla nave, cerca di salire a bordo e viene respinta a colpi di remi. Si cominciano a sentire rumori, colpi di rivoltella, perché più di uno scelterà la morte in situazioni di questo tipo. In più racconteranno i passeggeri, non si sa se realtà o suggestione del momento, ci sono gli squali a rendere più drammatica, più tragica la situazione. Il comandante capisce che la situazione è definitivamente compromessa. È sul ponte di comando. Ha il sigaro, il suo sigaro tra le labbra, lo getta. Gli si avvicina, il comandante in seconda, Moresco, gli dice prova a salvarti, salvati, buttati in acqua, tu hai moglie e figli, resto io al tuo posto. Lui non risponde nemmeno. E allora basta un cenno d'intesa. Moresco resta al fianco di Goulin. Raccontano che ai pochi orchestrali rimasti il comandante abbia chiesto di suonare la Mars reale. E prima di essere inghiottito dalle acque abbia gridato viva l'Italia. Propaganda fascista probabilmente. perché in quel momento, nei giorni successivi alla tragedia, bisognava esaltare i gesti di eroismo e nascondere le reali responsabilità di quello che qualcuno ha chiamato un delitto di Stato, costringendo una nave a navigare oltre le sue possibilità. Goulin muore da comandante o meglio, come dovrebbe comportarsi un comandante perché gli episodi recente ci dimostrano che qualcun altro si comporta in modo diverso. Di lui, alla famiglia, verrà riconsegnata soltanto una maglia di lana. Era il suo portafortuna. Indossava quella maglia di lana quando durante la Prima Guerra Mondiale era riuscito a trasbordare tutti i passeggeri dal piroscafo ad un'altra nave. Ora, non è più così. La Prima Guerra Mondiale 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 dicendo che la nave era in perfette condizioni era stata controllata e certificata nei porti di Genova e di Barcellona la colpa è solo del fatto avverso, dirà il ministro Oceano la sfortuna però c'è anche qualcuno che è stato più fortunato, ormai abbiamo abbandonato questa parola questa sera per una serie di circostanze c'è anche qualcuno che su quella nave non è salito doveva salire ma non è salito Ruth Negrete ha compiuto il suo primo anno di vita sul Principessa Mafalda ha compiuto un anno e a bordo il comandante Gullio ha organizzato per lei una bella festa con una torta nel penultimo viaggio del Principessa Mafalda da Buenos Aires a Genova, sono i ricordi di famiglia che tornano nei racconti di questa donna intervistata dai giornali delle tv sudamericane la madre racconta Ruth mi ha sempre raccontato delle vibrazioni continue di ballerina di questa nave durante il viaggio da Buenos Aires a Genova il viaggio di ritorno della famiglia Negrete però fissato per l'11 ottobre del 1927 partenza dal porto di Genova qualche giorno prima però la famiglia Negrete è a Londra il padre di Ruth fa visita all'ambasciatore argentino a Londra i due discutono l'ambasciatore si informa su quale nave prenderà per il viaggio di ritorno ho scelto il Principessa Mafalda no, non farlo è una nave pericolosa non puoi navigare su quella nave il padre risponde ho già acquistato i biglietti no, devi prendere un'altra compagnia la Blue Star Line una compagnia inglese e alle insistenze del padre di Ruth l'ambasciatore fa acquistare i biglietti e quindi la famiglia Negrete è costretta ad abbandonare la sua idea di spostarsi con il Principessa Mafalda per fare ritorno in Sud America e probabilmente si salva succede anche ad una famiglia piemontese si chiamano Giovanni, Rosa e Mario hanno deciso di chiudere l'esperienza che si tramanda di generazione in generazione e che riguarda la coltivazione dei campi basta con i campi vogliamo intraprendere una nuova attività commerciale vogliamo raggiungere i nostri parenti che sono già in Argentina e allora Giovanni, Rosa e Mario decidono di mettere in vendita quei terreni con i soldi ricavati acquisteranno il biglietto per andare in Sud America passa il tempo e le offerte per i terreni non arrivano Giovanni è preoccupato ha già prenotato i biglietti per il Sud America ha già scelto la nave il Principessa Mafalda ha già deciso il giorno di partenza l'11 ottobre del 1927 nessuna offerta o comunque quelle che arrivano non sono ritenute sufficienti e così si decide di rinunciare a malincuore a questa partenza i tre Giovanni, Rosa e il figlio Mario partiranno un anno e mezzo più tardi e riusciranno a ricongiungersi ai parenti a iniziare l'attività commerciale e a vivere la loro nuova vita argentina forse questo viaggio mancato un po' ha cambiato i destini del mondo i tre si sarebbero salvati o sarebbero morti non lo sapremo mai sta di fatto che Giovanni, Rosa e Mario di cognome si chiamano Bergoglio Giovanni e Rosa sono i nonni Mario è il padre di Giorghe Mario Bergoglio Papa Francesco Giorghe Mario Giorghe Mario Giorghe Mario Gesù e Giorghe Mario Gesù e Giorghe Mario sempre da il meraviglioso Monti e Melì non si smetterebbe mai di sentirti non si smetterebbe mai di sentirti questa storia non può concludersi così c'è ancora una pagina una sola pagina da raccontare, che riguarda la donna che ha dato il nome a uno dei due piroscafi, Mafalda di Savoia, la figlia secondogenita del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena. Mafalda nasce nel 1902. Nel 1903 una nave a lei dedicata, un veliero, fa naufragio al largo delle coste di Sumatra. Il 28 agosto del 1944, lo stesso giorno in cui morirà Mafalda, un vaporetto, che si chiama Principessa Mafalda, in servizio tra Napoli e Capri, spostato a Trieste per essere messo al riparo dagli attacchi degli alleati, viene colpito e affondato. Ma sembra quasi che ci sia un presagio sinistro legato a questi numeri, a questi nomi. Quello che dicevamo all'inizio, in realtà non c'è nulla di questo, perché il Principessa Iolanda, vi ricordate, è naufragato per un errore di assetto al VAR, un errore umano. Il Principessa Mafalda è andato a fondo per la scelta scellerata di uomini che hanno fatto navigare una nave che doveva essere radiata. E anche nella vita di Mafalda, più che la sventura, forse c'è il suo desiderio estremo di essere madre, di ricongiungersi con i suoi figli. Quando il Principessa Mafalda affonda nel 1927, Mafalda è già moglie e madre. Nel 1925 ha sposato Filippo D'Assia, un principe tedesco, è diventata anche lei cittadina tedesca. Nel 1926 è nato il primo figlio, Maurizio. La vita scorre serenamente, Mafalda si tiene distante dalla politica, detesta i nazisti ed è ricambiata da loro. Vive lontano, più che può. Si divide fra la Germania e Roma. Per il suo matrimonio le è stata regalata una villa ai Parioli, Villa Polissena. È qui dove lei passa il suo tempo, insieme ai figli, al marito, quando si ricongiungono. La guerra fa precipitare tutto. La data chiave è il 28 agosto 1943, un anno esatto prima della morte della Principessa. Alla porta di Villa Polissena bussa un emissario del re di Bulgaria. La sorella Giovanna ha sposato il re di Bulgaria, Boris III. Porta un messaggio della sorella. Vieni, mio marito sta male, sta morendo. Improvvisamente, misteriosamente, il re Boris III ha cominciato a stare male. Quando Giovanna lo comunica a Mafalda, Mafalda parte subito, è molto legata alla sorella e ai suoi figli. Arriva al 31, ma Boris è già morto. Non si sa di cosa. Probabilmente di avvelenamento. Non si sa da chi. Probabilmente il mandante pare sia stato Hitler in persona. Boris aveva spiegato al Führer la sua intenzione di rompere l'alleanza con Lasse e di passare a dialogare con gli anglo-americani, facendo andare su tutte le furie il Führer. Il 31 agosto il re muore. Mafalda si trattiene una settimana a Sofia e il 7 settembre del 1943 decide di fare ritorno in Italia. Non c'è data peggiore, probabilmente, per una scelta di questo tipo. L'8 settembre viene firmato l'armistizio. Il re e la regina se ne vanno a Brindisi. Mafalda non sa nulla di tutto questo. È la regina madre, nella notte del 9 settembre, alle 3 di notte, a far fermare il treno che la sta portando in Italia e a chiederle di fermarsi. È pericoloso per te tornare in Italia. Che cosa mi può succedere? Risponde Mafalda. Ho sposato un principe tedesco che è in guerra, sta servendo il Führer. È nella Wehrmacht. Il mio figlio primogenito, Maurizio, è nella Flak, nella contraerei. Io sono una cittadina tedesca, non mi può succedere nulla. Mafalda arriva fino a Budapest. Da qui cerca di raggiungere, come è possibile l'Italia, le viene messo a disposizione un aereo che è destinato a Bari. L'aereo non ha il carburante sufficiente, si atterra a Pescara. A Pescara le si fa incontro il comandante dell'aeroporto. Le dice principessa c'è un aereo sulla pista che sta per partire per Brindisi. Salga su quell'aereo. Si salvi. Mafalda risponde ancora una volta di no. Sono vicina a Roma. Sono vicina ai miei figli, alla mia famiglia. Voglio tornare. Resterà a Chieti una settimana. Poi riuscirà ad arrivare a Roma. Il 21 settembre Mafalda è a Roma, nella sua casa a Villa Polissena. I figli sono in Vaticano. Il re e la regina, prima di andarsene, li hanno affidati a Giovanni Battista Montini, il cardinale Montini, il futuro Papa Paolo VI, che al figlio Enrico, il figlio secondo genito, ha addirittura affidato la sua stanza. Enrico ricorda quell'incontro dicendo di vedere quella donna così scavata, così sofferente per il viaggio, per tutto quello che sta subendo, ma felice di quell'incontro. Parlano a lungo, progettano. Ci vedremo domattina, dice la madre prima di lasciarle. Parleremo dei nostri progetti futuri. Non sa che è già scattata la trappola nazista. C'è addirittura il nome in codice di quello che stanno per preparare a Mafalda. Si chiama Abeba Ubung, Operazione Abeba, in termine spregiativo per ricordare il passato coloniale dell'Italia. Mafalda è a Villa Polissena, un emissario dell'ambasciata tedesca bussa alla sua porta. Principessa, venga in ambasciata domattina. Potrà finalmente parlare al telefono con suo marito. Sono mesi che Mafalda e Filippo non si parlano. Lei lo crede in guerra, impegnato al fronte. In realtà a maggio, dopo essersi consultato probabilmente con Umberto, il fratello di Mafalda, Filippo ha esposto al Führer le sue riserve invitandolo a ragionare sulla possibilità di arrivare ad un patto con gli alleati. Il Führer impazzisce, lo fa trattenere ufficialmente per studiare i piani della città di Linz, in realtà per tenerlo sotto controllo. E l'8 settembre lo stato di fermo si trasforma in arresto e deportazione. Filippo finisce nel campo di concentramento di Flossenburg. Ma Mafalda non sa nulla di tutto questo. È convinta che la mattina successiva, quel 23 settembre, potrà parlare con il marito. Viene prelevata dalla macchina dell'ambasciata, portata all'ingresso di Villa Volkonsky, sede dell'ambasciata, ma i cancelli non si aprono. Mafalda viene fatta scendere con la forza, spostata su un'altra macchina, portata all'aeroporto di Ciampino e di qui condotta prima a Monaco e poi a Berlino. Resterà in carcere tre settimane, sottoposta a interrogatori durissimi, sfibranti, in cui le chiederanno di raccontare quello che sa dei patti segreti per rompere l'alleanza con la Germania. Lei non sa nulla. I nazisti la detestano, non vedono l'ora di accanirsi contro di lei. Quale migliore occasione? La figlia del re traditore e la moglie del principe tedesco traditore. Per lei è pronta la soluzione finale, il campo di concentramento di Buchenwald, dove andrà a concludere i suoi giorni. Joseph Goebbels, il ministro della propaganda del Terzo Reich, nei suoi diari parlerà di lei come un animale intrigante, la peggior carogna di tutta la casa reale italiana. Albert Spera, il ministro degli amamenti, è più sottile. Arriva ad accusarla di tenere un carteggio segreto con il marito. Comunque sia, Mafalda va a Buchenwald. Le ordinano di non rivelare la sua identità. Lei sarà Frau von Weber. Le assegnano una baracca, la numero 15. Il vitto è quello degli ufficiali. Le condizioni sono devastanti per una donna come Mafalda. Le privazioni, il freddo, le umiliazioni dei capò del campo di concentramento, che la chiameranno Frau Abeba, la porteranno in poco tempo in condizioni pietose. Però avrà sempre quella dignità di una principessa. I prigionieri, liberati poi dal campo di concentramento, la ricorderanno con una fascia fra i capelli, scarpe e vestiti laceri. Però una cintura alla vita e un barattolo. In quel barattolo Mafalda prendeva il suo cibo per portarlo agli altri prigionieri. Il 24 agosto del 1944 gli alleati bombardano le officine Gustloff, poco distanti dal campo di concentramento di Buchenwald. Mafalda e altri si nascondono in un terrapieno, ma una bomba colpisce quel terrapieno. La principessa viene sepolta dalle macerie, viene estratta, è sanguinante, ferita, ha ferite al volto, al braccio, ma non è in condizioni così gravi. Potrebbe essere salvata. Ma qui si compie l'atto finale dell'operazione Abeba. Viene caricata su una barella di fortuna, un asse di legno con un tavolo di legno, e portata nell'infermeria del bordello del campo di concentramento. Mentre la stanno portando riconosce due italiani dalla I e a loro dice la frase forse più famosa che a noi ci fa ricordare. italiani, io muoio, ricordatevi di me, non come di una principessa ma come di una sorella italiana. Viene portata nel campo di concentramento, soltanto medicata e lasciata lì per quattro giorni in agonia, assistita solo da una prostituta. Il 27 agosto verrà operata con il braccio già devastato dalla cancrena. Il braccio le verrà amputato e verrà lasciata lì, a morire, dove morà il 28 agosto del 44. Al termine del conflitto il suo nome, il fatto che una principessa comunque è stata Buchenwald, gli aveva già iniziato a circolare da prima. Anche perché grazie ad un padre boemo internato in quel campo di concentramento, padre Thiel, il suo corpo non viene cremato. Il corpo di Mafalda è già in questa catasta inanimata delle vittime del bombardamento di Buchenwald. Il padre boemo chiede al comandante di togliere almeno quella donna, riconosce il suo corpo dal braccio amputato. Il comandante del campo accetta, potrà essere sepolta in una fossa comune, nel vicino cimitero di Weimar. Così avviene. Al termine del conflitto saranno sette marinai di Gaeta, saputo della storia di Mafalda, a chiedere agli alleati di poter andare a cercare in quel cimitero quella bara deposta in una fossa comune con la scritta donna sconosciuta. Cercheranno di entrare una prima volta, ma il custode li respingerà. Ci proveranno una seconda volta, spacciandosi per giornalisti e questa volta riusciranno ad entrare. Scaveranno nella fossa comune, fra le mille bare troveranno la numero 262 con la scritta donna sconosciuta e dietro una piccola croce il nome Mafalda. Ora quel corpo può essere restituito alla sua famiglia, il castello di famiglia vicino a Francoforte sul meno, dove riposa la principessa che non fece ritorno. Franco piccolo. Grazie. Facciamo fare ancora un pezzo a Franco piccolo? Quale? A richiesta? A richiesta? A quello che vuoi, di quelli che abbiamo fatto. Facciamo un altro? Facciamo libertango? Chiudiamo con libertango? Va bene, dai. Non l'avevamo fatto, è troppo scontato però se lo chiedi. Grazie. 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 Grazie.